Andreotti Presente Badalamenti Presente Bontade Presente Sindona Presente Costanzo Presente Berlusconi Tuco Desalato Certo che sono un po' vivaci questi bambini Che vuole? E' la vitalità della giovane Italia che si prepara a costruire un futuro molto radioso Volevo dire mafioso professor Radioso ignorante Oggi niente di nazione Aspetta 10 minuti